se vi interessano le case editrici indipendenti siete nel posto giusto al momento giusto alla fine del mese arriva sempre un video su questo canale su altri canali dedicato a una specifica casa indipendente di cosa si tratta si tratta di indie books un progetto ideato da eleonora del canale mistortellino che ha l'obiettivo di portare alla conoscenza degli utenti dei lettori le case editrici indipendenti che hanno meno visibilità sul panorama editoriale nelle librerie e si sentono meno nominare il progetto una volta si chiamava booktube italia legge indipendente adesso si chiama indie books perché non riguarda più soltanto youtube ma anche instagram pagine facebook blog e tutto quello che vi può venire in mente nel mondo di internet delle recensioni letterarie la casa editrice che abbiamo estratto questo mese è casa sirio io mi ero fatta consigliare il libro dall'editore quando sono andata al salone del libro di torino e ho scelto di leggere grande madre acqua la storia una storia straziantissima di due bambini orfani che crescono in un orfanotrofio jugoslavo alla fine della seconda guerra mondiale quindi siamo nella jugoslavia di tito un paese che è in pace ma in maniera un po fittizia perché gli jugoslavi sono stati messi insieme assemblando popoli diversi e che in realtà non avevano tutta questa affinità come poi la storia ha dimostrato questi due ragazzini appunto sono orfani e si ritrovano in un orfanotrofio dove la vita è terrificante le situazioni sono di miseria assoluta non mangiano granché non vengono riscaldate le stanze e soprattutto la cosa peggiore è che la crudeltà degli educatori sia il direttore che la vice direttrice sono delle persone terribili che non vedono l'ora soprattutto di punire i bambini che già fanno fatica a sopravvivere appunto per le condizioni difficili di vita del luogo ma che oltretutto vengono vessati nel maniere peggiori rinchiusi puniti nelle cantine per delle sciocchezze e il loro modo di sopravvivere non è soltanto appunto di cercare di trovare il modo di essere nutriti e scaldati a sufficienza ma anche di trovare nella loro mente un modo per darsi speranza altrimenti la ragione di vita andrebbe proprio assolutamente a mancare la grande madre acqua del titolo è proprio la speranza di vita che i due ragazzini si danno l'un l'altro ovvero una maniera metaforica di intendere la libertà e una vita migliore non esiste un vero luogo dove c'è quest'acqua come anche il monte centerlev che viene nominato da più ragazzini è un luogo fittizio della loro mente dove loro possono sperare di fuggire dall'orfanatrofio di stare al di fuori e di vivere una vita libera e felice senza essere così torturati dalla fame dal freddo dal caldo dalla miseria ma soprattutto dalle vessazioni delle di quelli che invece dovrebbero trattarli con amore curarli e far loro vivere una vita il più serena possibile perché ricordo stiamo sempre parlando di bambini bambini che oltretutto davvero fanno fatica a sopravvivere e muoiono a frotte proprio per le difficili condizioni di vita è un romanzo appunto doloroso una storia di un'amicizia molto forte in cui i due ragazzini si danno forza l'un l'altro proprio per andare avanti la caratteristica principale di questo romanzo è lo stile lo stile la storia è raccontata da uno dei due ragazzini una volta adulto un adulto abbastanza cinico e disincantato che però non ha perso il suo punto di vista sull'infanzia ma è soprattutto il linguaggio che è un linguaggio da adulto cioè un linguaggio nel quale lui inframezza delle espressioni che sono poco da bambino e soprattutto una durezza della vita che è difficile da immaginare un bambino che magari all'epoca dei fatti ha dieci anni oltretutto ogni capitolo è aperto in maniera singolare ovvero c'è una pagina che nell'aspetto editoriale è scritta in corsivo in cui non venne raccontato vero e proprio quello che sta succedendo o comunque non è una parte narrativa ma è più una parte riflessiva su quello che il ragazzino pensa della situazione vi faccio vedere come è resa graficamente allora come vedete qui per esempio abbiamo da questa parte l'inizio del capitolo e qui vedete proprio questa pagina non so quanto riusciate a vedere ma in corsivo in cui il ragazzino esprime un po' quello che sta per succedere ma anche le sue opinioni ed è proprio questa pagina che vi vorrei leggere per farvi capire che tipo di stile ha scelto l'autore per raccontare questa storia straziante e drammatica e che fa veramente male probabilmente il monte centerlev non è mai esistito semplicemente uno di quei piccoli diavoli se l'era inventato magari in sogno per paura o per disperazione che io sia maledetto divenni scettico bugiardo meschino e dell'orfanotrofio cominciai a odiare ogni cosa anche i bambini gliel'avrei fatta vedere io a quei piccoli schifosi credete fosse facile voi non vi rendete conto anche se ci toccava restare sulla strada seduti per terra sotto un suolo ecocente bisognava fuggire da quel posto sudicio e non tornarci più mai e poi mai non rivedere più quella gente abbandonare tutto restare soli completamente soli nascondersi in una grotta buia e profonda fuori del mondo dell'umanità intera e non cercarli più le loro sono parole bugiarde l'affetto è fittizio sorridono con debolezza finché non sei nelle loro mani e quando finalmente sono riusciti a braccarti ti gettano come una bestiola selvatica in una gabbia in una fila in un quell'orfanotrofio maledetto l'odio l'amarezza mio dio qualcosa di spaventoso di insondabile si stava insinuando nel mio cuore poi lei arrivò e mi disse che cosa c'è non hai più fede abbi fede mio piccolo leni e mi chiese di giurare sulla testa di mia madre che io sia maledetto allora il monte center le esisteva e tutto ricominciò l'amore la verità la menzogna il giuramento la preghiera la bontà le premesse come vedete appunto non è un romanzo edulcorato la bruttezza è spiattellata in faccia al lettore in maniera assolutamente drastica però è uno stile di scrittura molto metaforico ed è la ragione per la quale io ho un po' arrancato su questo libro perché è uno stile che si confa poco al mio gusto letterario molte cose vengono espresse per metafora c'è tantissimo di onirico non si capisce mai quando l'autore sta raccontando un fatto che è esistito o che il bambino semplicemente ha sognato o immaginato guardando dalla finestra perché cercava di strapparsi ad una realtà così drammatica chiaramente è un effetto voluto però è un effetto che si corrisponde poco al miei gusti letterari tuttavia è un romanzo molto bello che vi consiglio di scoprire come vi consiglio naturalmente una volta che avete finito di vedere questo video di guardare nell'info box tutti gli altri video che sono usciti oggi per partecipare a questo progetto soprattutto se vi interessa casa siri ma soprattutto se siete attratti dal panorama dell'editoria indipendente naturalmente sempre oggi si troveranno anche in giro dei post su instagram o anche sui vostri blogger preferiti per cui mi raccomando oggi cercate casa sirio su tutte le vostre piattaforme di riferimento se vi piacciono questi contenuti qui trovate la possibilità di vedere un altro video e qui di iscrivervi al canale se volete restare con me anche nei prossimi video noi ci rivediamo lunedì prossimo e nel frattempo buona lettura a tutti chiedeii stiamo chiedendo quini